Segnali di un ritorno del DedSec hanno spinto il Parlamento ad autorizzare le battuglie Albion all'uso della forza. Il CEO Nigel Cass ha dichiarato questo. I terroristi del DedSec scopriranno presto che, a differenza della polizia, Albion è addestrata a combattere e non ha alcun timore a farlo. Il primo ministro ha definito questa licenza di uccidere una misura drastica ma necessaria. Finalmente ce l'hai fatta. Ecco, il tuo nuovo Optic. È una decisione importante. Una volta nel DedSec non potrò più avere una vita normale. E cos'è normale? Che il governo possa ammazzare la propria gente? So che le cose vanno di merda e voglio fare qualcosa per aiutare, ma non so se riesco ad abbandonare tutto. Non stai abbandonando tutto. Stai per combattere e per proteggere il tuo futuro. Ah! Ah! Ok. Va bene. Sono pronta. La resistenza ti dà il benvenuto. Bene, è un piacere averti con noi, eccetera, eccetera. Le pacche ce le diamo dopo. Ora invece tu e il tuo grosso amico drone ci servite per rubare un server in cima al quartier generale del Sears. Come la vedi? Vado subito. Sono qui. Evidenzio al server con il software di ricostruzione RA. È fuori portata, quindi dovrai usare un drone da carico pesante per rubarlo. Sì. Sì. Ecco qui che sto... Grazie a tutti. 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 Download completato, ma mi servono più dati. Ti mando le coordinate di una nuova posizione. Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.